dovrebbe essere un polmone verde e invece puntualmente trasformata in una discarica a cielo aperto la collina di trivio a castel san giorgio sfregiata martoriata ancora una volta già a lungo i tornanti che conducono allo storico castello e poi in ogni angolo in ogni aria vi sono rifiuti di ogni genere pneumatici elettrodomestici fuori uso materiale di risulta scarto di edilizia amianto e anche tanti volantini pubblicitari la segnalazione giunge da una guardia ambientale di angri ed altre segnalazioni rispetto al degrado che interessa tale area di castel san giorgio erano giunte nei mesi scorsi anche da tanti cittadini che si erano rivolti alla nostra rubrica ufficio reclami l'appello viene lanciato al sindaco della città san martino affinché come chiesto a più riprese dai cittadini vengano insi tutto bonificata l'aria e si passi poi ad aumentare i controlli al fine di scongiurare lo sversamento di materiale di risulta rifiuti e quant'altro in quello che dovrebbe essere un polmone verde ma viene invece puntualmente trasformato in discarica grazie 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 grazie